Ma qual è la regione italiana più focosa sotto le coperte? Scopriamolo immediatamente! Italiani tra i 18 e i 50 anni lo fanno mediamente 123 volte all'anno, circa 10 volte al mese. Ma ne siamo proprio sicuri? Non lo so. Partiamo con la classe piccola. Le ultime della classe sono le regioni più a nord, tra cui Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Trioli Venezia Giulia, con meno di 8 volte al mese. Chi è triestino qua? Com'è bello far l'amore da Trieste in giù, no? Bellissimo, guarda. Sorvoliamo. Al penultimo posto troviamo Molise, Calabria e Basilicata, con una media di almeno 8 volte al mese. Bene, ma si può fare molto meglio. Al settimo e terz'ultimo posto troviamo Marche, Abruzzo, Puglia, Liguria e Sicilia, con una media di 9 volte al mese. Raga, mettiamocela un po' di libido, dai! Lo tiriamo fuori o no? Al sesto posto invece troviamo Sardegna, Umbria e Veneto, con una media di 10 volte al mese. Siamo ancora a Bassini, eh? Al quinto posto abbiamo Piemonte ed Emilia Romagna, con una media di 11 volte al mese. E già, quarto posto, zona Champions, troviamo da sola la Toscana con una media di 12 volte al mese. Tre volte a settimana, neanche mai. Sul podio, attenzione, al terzo posto con la medaglia di bronzo troviamo il Lazio con la bellezza di 13 volte al mese. Gladiatori, eh? Al secondo posto la medaglia d'argento va alla Campania con la fantastica media di 14 volte al mese. Calvi, calvi, ci siamo! E da sola, in vetta la classifica, che va a spazzare via tutti con una media di 15 volte al mese. Troviamo la... Compartiglia! Un applauso signori! Ci date di brutto!